Ehm... Ciao Ciao a tutti ragazzi, io sono DamioG, siamo di nuovo qua Dopo anni, millenni Siamo di nuovo qua su Minecraft Questo perché avevo fatto appunto un video l'altro giorno, una live In cui qualcuno era entrato e mi aveva di nuovo incontrato Però adesso voglio fare appunto un video in cui saluto sicuramente più gente Perché un video è sicuramente più visto rispetto a una live E assolutamente vi devo appunto un po' di spiegazione per il fatto che non ci sono stato in questi ultimi 6-7 anni Insomma, un botto di tempo E quindi rieccoci qui con questa luna che sale in questo mondo che stiamo costruendo in live su Twitch Vi ricordo appunto che c'è il link in descrizione per andare a vedermi in live Stiamo facendo questo mondo su queste isola Che non è un'isola, però all'inizio credevo fosse un'isola Però è veramente figa Veramente molto molto bella Quindi vi invito, nel caso voleste appunto passare una o due orette insieme Per farmi anche domande Perché appunto guardo sempre molto la chat Se volete appunto guardare un po' quello che si fa Potete assolutamente venirci a trovare Intanto lui è Paolo Paolo, saluta È incazzato oggi Il bello di Paolo è che è trasparente, ok? È trasparente Paolo È proprio così È l'unico cavallo tra tutti che era trasparente Lui non l'abbiamo ancora chiamato Ad ogni modo, nell'ultima live abbiamo finito di fare il magazzino Abbiamo fatto tantissime chest Abbiamo un po' ripreso Diciamo la costruzione che avevo fatto nella serie hardcore Poi ci sono dei dettagli da finire Tante cose da mettere a posto Tipo le luci e tutto Però è tutto da fare ancora Quindi sarà divertente Ci tengo tanto 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 anche a ringraziare loro Tra cui Piuma Bianca e Enrico Che si sono subito abbonati Appena ho fatto partire la filiazione Io li ringrazio tantissimo Non dovevate farlo E ringrazio appunto anche Albi, Artic, Daniel Che sarebbe Deathstrip Toscomat e Gerwatz Perché ci sono praticamente sempre In tutte le live che faccio Faccio le live abbastanza quotidianamente Ma diciamo che annuncio sempre Prima su Telegram e su Instagram Quando le faccio Perché appunto lavorando E vivendo insieme con la mia ragazza Da 5 mesi Ormai i tempi Diciamo gli orari Sono quelli che sono Quindi bisogna sempre trovare un po' Il tempo per fare le cose Inoltre in live Tengo sempre la webcam L'ho comprata Perché quella che usavo appunto anni fa Si era rotta L'ho ricomprata Mi potrete vedere pure Con la barba Cioè pazzesco Io con la barba Sembro ancora Non lo so Abbastanza giovane Penso di essere ancora abbastanza giovane Però appunto Se volete vedermi con la Con la webcam Quindi in faccia Potete assolutamente Venirmi a trovare Quindi per chiudere Se volete chiedermi Cosa ho fatto in questi anni E soprattutto Se venite Vi chiederò anch'io Come sono andati questi anni Venite su Twitch Link in descrizione Mettete il follow Così almeno avrete la notifica E se volete quindi Seguitemi anche su Telegram E Instagram Così almeno avrete Diciamo Dei post Delle storie Tutto dedicato Solo per voi Io adesso vi lascio Qualche spezzone Di qualche live Che abbiamo fatto appunto Nei giorni scorsi E niente Mi ha fatto molto piacere Risentirvi Mi raccomando Commentate Perché risponderò Assolutamente a tutti E' sempre una cosa Che ho cercato di portare avanti Il fatto di rispondere a tutti E di sicuro Lo farò anche adesso E quindi Niente Mi farebbe molto piacere Sentirvi Io vi saluto E ci vediamo appunto Sul canale Viola Se volete Io non mi ricordo più Come si fa Ma vi saluto Ciao ciao Seguitemi sul canale Viola Buongiorno mondo Guardate che figata Cioè Tanta roba Tanta Tanta roba Wow wow Oddio Ma sto già sprofondando Che è sta roba Porco Fantastico Ah vabbè Ma che è Voi invece Non fate un cazzo La mattina o la sera No 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 Te invece No 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 Ma che è Dai Grande Già Abbiamo un disco Passa che non mi fate fuori La Le tecola Perché ci sto Lavorando Ok No 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 Ehi Mangiate Riproducetevi Quei due diamanti Ah giusto È vero Scusa Sono Sono concentrato Con Con appunto Star Deciso Usiamo anche quest'acqua qua Per scendere E poi risalire Oh porco Mannaggia Ok Qui si prova Che dio Azzo Cazzo Oh Gesù Wee wee Capo C'è tutto C'è tutto Ottimo Ma però Che palle Ah io me ne vado A sto giro Ma mi sa che Ce ne possiamo anche Tornare indietro Perché Mi sa che qui Altri villaggi Non ci sono Penso Ottimo C'è un altro villaggio Fantastico Bisogna correre What Ma c'è un altro villaggio lassù Non ci credo No il magasino lo finiamo e Ho il foglietto ragazzi Dove l'ho messo Ho il foglietto Eccoci Qui c'è il progettino Non so quanto si vedrà Ma c'è il progettino Illuminiamo un po' a cazzo Due secondi Giusto per Uh bello No Coglione No Ma perché l'hai fatto Dai avevo messo questa Grazie mille Veramente Sei Magico Però non Non avevo ancora Il L'alert Fatto carino Ne avevo messo uno Sei un pazzo Grazie mille Avevo appena finito Di dire che mai Nessuno si abbonerà E tu non dovevi farlo Assolutamente No ma anche tu Mannaggia Non ho gli alert Non ho niente Mannaggia te Grazie mille Davvero Ho apprezzo Veramente molto 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 Io la mattina Sono un po' Ancora un po' Un coglione Dovrei mai essere a posto No Col cazzo Siamo a posto Mannaggia 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 Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Immagino che ce l'ho dietro Mi sto cagando Veramente addosso Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non ce la faccio più Mi sto cagando addosso Non so dove sta Dai Siamo fuori Siamo fuori Siamo fuori Siamo fuori Siamo fuori Aiuto 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 Nooo E qua e qua e qua E qua e qua e qua Sali sal No 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 Scappa 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 L'unica cosa Cioè io sto ancora faticando Un attimo a capire Come si riesce a gestire la cosa Nel senso Qui ci sono degli spawner Che adesso Li tolgo Perché soprattutto Quello isolato Questo era il primo avviso però Puttana Mamma santa Mi sono caccato De dos di nuovo Cioè ve lo giuro Sono lercio Lercio